Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 verso sud, rallentamenti per veicoli in avaria tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta e tra Incisa Reggello e Valdarno per traffico intenso. Carreggio d'opposta quindi verso nord, coi a tratti per traffico tra Valdarno e Firenze sud e tra Firenze Impruneta e BV1 variante. Attenzione in A12 dove troviamo tratto chiuso per veicoli in fiamme tra Rosignano e Colle Salvetti nella carreggiata verso Genova, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni. E arriviamo in Fipilì per lavori di miglioramento della sicurezza, troviamo un chilometro di coda con tendenza all'aumento tra Impoli-Est e Montelupo nella carreggiata verso Firenze e in carreggiata opposta, rallentamenti tra Ginestra e Montelupo. Sempre in Fipilì è segnalato vento forte tra Ponte d'Eraeste e Livorno, raccomandiamo particolare prudenza alla guida di mezzi Teronati e Caravan. Era l'ultima notizia per gli aggiornamenti in tempo reale, siamo presenti anche su tutti i principali social network da Agnese Fedeli. Buon viaggio!